Salve a tutti ragazzi, belli e brutti e miscritti in più di tutti Eccoci qui, siamo bentornati a proposito su Giovi HB Spoh Io sono Giovi Spoh, siamo qui nel Pim Slipsy Mobsician If Recession 3 Questa è la squadra che ho fatto intorno a Mobsician, spero che sia abbastanza forte L'ho fatta per renderla al meglio E quindi ora andiamo ad invitare il nostro avversario Vi troverete qui sotto in descrizione il link che vi condurrà all'estrazione Perché l'ho registrata e l'ho caricata Volevo ricordarvi che se avete bisogno di crediti passate dal sito lasciato qui in descrizione FIFA Commission, sono veloci, economici e con il codice coupon Giovi Spoh Avrete il 3% di sconto Ora andiamo subito ad invitare il nostro avversario Ed eccolo arrivato, 81, 80, 79, sembra davvero ben fatta Ora vediamo chi ha in rosa E vediamo Hulk, si gira, Hulk Mamma mia Incredibile Hulk Al picciottesimo, su sinistro non perdona mai Sinistro, stop di petto, belli, anzi di petto, di piede Stop di petto, su sinistro, la infila alle spalle di Cavaliero 1-0 No, corner, attenzione a questo corner, Gerard No, 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 no Mi sono pari così Ma andate a marcare? Eh dai andate E no E no E no E no Vaffanculo Ma che difesa di merda Mi sono preso Ma perché mi hai tolto quella selezione? Ma io c'avevo quello Ma vaffanculo No 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 Ma perché mi hai tolto? ma se io c'avevo quello perchè tuffanculo tua sorella vai Hulk vai Hulk Hulk dai porca troia ma dai tu che tu che portiere mi sbagli ma come cazzo faccio no no ma meno male mamma mia che cazzo bro ma che cazzo sta tuffa resbagliatevi vai do Umbia do Umbia il palo a metto do Umbia 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 vaffanculo meno male che c'è sei tu do Umbia te l'ho messo al posto di Shirokho penso preferisco do Umbia 2 a 1 mamma mia attenzione ad Hazard Hazard dai e non fa cagava ma come cazzo fate ma perché oh mamma non posso neanche tenere il vantaggio per 5 secondi per 5 secondi vaffanculo ma che cazzo bro vai Movsician vai Movsician 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 si Movsician si Movsician si Movsician pallonetto di nuovo grande Movsician so che è un grande giocatore però deve essere valorizzato si riparte 3 a 2 che è successo? niente eh no oh oh retard alert dai ma perché non è tirato? dove cazzo la passi? ma santa maria prega per noi attenzione 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 ad Hazard vai a marcare vai a marcare sei un coglione non vai a marcare vai a marcare ma perché? marcalo marcalo uuuuuh ma perché mi dovete arrabbiare sempre ogni match ogni volta premi il tasto per andare a marcare non va a marcare questo corner Hulk la nostra speranza cerca la testa di Alder Bayon ma 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 perché? ma perché? ogni pinziz non non può finire nei tempi regolamentari perché io ho subito sempre no per no dal cinquesimo novantesimo è una cosa impossibile è una cosa impossibile da giocarci ok che merita il vantaggio però porca troia cento per cento così precisione i tiri vai Witzel vai Witzel B e T tira rigore 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 stiamo calmi stiamo calmi stiamo calmi stiamo calmi stiamo calmi che qui qua lo sbagliamo sicuro qua lo sbagliamo sicuro io dico che qua lo sbaglio sicuro no insomma è un mio presentimento a few moments later battiamo con Hulk c'è Hulk mamma mia sbassano sopra le mani di cavallero cento di dodicesimo ora dobbiamo vediamo se riusciamo a mantenere questo vantaggio a few moments later no 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 è no 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 è sempre al cento ventesimo oh ma ma perché perché al cento ventesimo ma ma perché sembra al cento ventesimo devo superare il pareggio ma che cazzo devo fare per togliere sta cazzo mamma mia spacco tutto mamma mia ecco ecco iniziamo bene i rigori iniziamo bene sti cazzo di rigori grandi grandi ecco 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 ben te che dai curto contro ben te che dai si eh dai eh dai vabbè ma che cazzo ci devo fare io vai onda vai segna onda segna segna almeno tu segna se para ti prego para parati prego eh no entai entai no per che per che Aaaaaaah! Grazie a tutti. Grazie a tutti.